Oggi ci spostiamo in Germania per essere precisi in Franconia, a Bamberga, con questa Schlenker Lamarzen Rockbeer. Non mi sono dimenticato di filmare, semplicemente ho dovuto registrare prima la parte relativa alla degustazione perché questa birra l'ho spillata adesso in questo istante dalla spina e ha una schiuma molto molto poco persistente, quindi ho fatto subito la parte di degustazione e adesso successivamente ho pensato di filmare la parte introduttiva, di scheda tecnica e appunto introduttiva di questo stile che credo sia la prima volta che registro su questo canale, quindi appunto la parte che registrerò adesso, poi grazie a potentissimi mezzi e flussi canalizzatori verrà spostata questa parte registrata dopo nel passato di questo video. Detto ciò, la birra in questione, vediamo subito la scheda tecnica, appunto siamo in Germania, Franconia per essere precisi, che è la parte settentrionale della Baviera, siamo a Bamberga, se volete anche le indicazioni geografiche della città di riferimento, il birrificio è Heller Browery, la birra in questione è la Schlenker, la Marzen Raukbier, lo stile in questione è appunto una Raukbier, che sono le birre affumicate, 5,1 i gradi alcolici di questa birra, ho controllato perché io adesso in questo caso l'ho spillata da un fusto che ho collegato proprio in questo momento alla spina, in realtà lo vedo ora su un birrshop online, il costo è di 3,70 euro per le bottiglie da 50 centilitri, devo dire molto economica, soprattutto considerando il grande livello qualitativo di questo produttore, bicchieri consigliati direi bicchieri pilsner o troncoconici in generale. Innanzitutto due parole veloci sullo stile, è una Marzen Raukbier, qui ci sono due elementi importanti qui. Marzen, che indica un tipo di birre tipicamente fatte a marzo, appunto per il consumo poi fine estate, fanno parte della grande famiglia delle basse fermentazioni tedesche, una delle caratteristiche principali delle Marzen, che però non c'è in altri stili diciamo di quella zona geografica, è la produzione attraverso dei processi di decozione, quindi durante la fase di preparazione del mosto e della birra, il malto d'orzo viene appunto se non erro in quantità diverse in base appunto alla ricetta che si sceglie di seguire, quindi non il 100% dell'orzo, ma una parte di questo viene quindi estratto dal tino di ammostamento e fatto, preparato appunto con un processo di decozione, dopodiché reinserito. Questo processo può essere fatto più volte, ovviamente dipende sempre dalla ricetta che si vuole seguire, ma questo genera poi tutto un buchè aromatico molto interessante e soprattutto note molto dolci, biscottate, che caratterizzano poi il prodotto finale appunto. L'altro elemento importante che caratterizza questa birra è, come suggerisce il nome, Raukbeer, quindi una birra affumicata. L'affumicatura delle birre si può ottenere semplicemente facendo un'affumicatura, non ovviamente del prodotto finito, non è un salume che viene affumicato una volta preparato il salume in sé, ma in questo caso si affumica la materia prima. Quindi il malto d'orzo viene fatto affumicare. Ovviamente il modo con cui avviene questa affumicatura può andare a variare, così come per i solumi si può affumicare su quercia, su faggio, su diverse tipologie di legno, a diverse condizioni diciamo di umidità e di tempo e durata di questo processo di affumicatura e così via. In questo caso i produttori specificano che il legno con cui avviene l'affumicatura del malto d'orzo, che poi utilizzano per preparare questa marzen, è legno di faggio bavarese, che sottolineano che sia bavarese. Ricapitolando quindi, siamo negli stili tradizionali tedeschi, basse fermentazioni, quindi appunto lieviti da bassa fermentazione, siamo perfettamente all'interno dei limiti imposti dal decreto di purezza, dal Rhein-Heinzgebot, che obbliga i produttori a utilizzare quindi solo malto d'orzo, lievito, ovviamente lo diciamo noi oggi perché sappiamo che esiste anche questo microrganismo, comunque per stare nel Rhein-Heinzgebot, quindi malto d'orzo, acqua e lupolo. Malto d'orzo che in questo caso viene fatto affumicare prima della preparazione del mosto e durante la preparazione del mosto ovviamente avviene questo processo di decozione di parte del mosto che poi appunto andrà a fermentare. E ora grazie a un abile gioco di montaggio vediamo la parte che ho registrato prima relativa alla degustazione. Partendo quindi dall'analisi visiva, la schiuma è molto soffice, non particolarmente persistente perché l'ho spillata poco fa in tre colpi, come prevede la scuola tedesca, ma si sta già smontando. È però una schiuma appunto molto soffice, un po' irregolare, non persistente e di un colore direi beige abbastanza chiaro, con texture abbastanza irregolare. La birra, allora, la birra è perfettamente limpida, nonostante il colore scuro, è questo bellissimo colore direi colore ebano con dei riflessi rossi molto molto chiari, qualsiasi punto di luce qui attorno a me che si rifletta nel bicchiere dà appunto dei bellissimi riflessi rossastri, color rubino per così dire, e la birra appunto è perfettamente limpida, nonostante il colore molto molto scuro. Passiamo quindi all'analisi olfattiva. Allora, molto molto interessante questa birra, sì sono un po' di parte, è una delle birre che mi piace di più senza dubbio, sicuramente tra quelle del panorama diciamo tedesco. Allora, cosa c'è di interessante in questa birra? L'intensità aromatica è media o medio-bassa, è molto delicata, non è particolarmente intensa, non siamo a livelli di birre molto lupolate, ipa che pungono quasi nel naso, ma ciò che colpisce è appunto comunque la complessità che c'è già al naso. Si sono, si sentono principalmente due cose importanti, anzi tre forse. La prima ovviamente la più importante è il profumo di affumicato. È un affumicato che a me ricorda tantissimo i salumi affumicati, lo spec per intenderci, e derivati diciamo così, ed è la cosa più importante appunto al naso. C'è dell'altro, c'è sicuramente anche del tostato, simil caffè, e a me sembra di sentire a volte in questa birra anche un pochino di quel profumo di caramello che a volte c'è in birre di altri stili, in alcune birre inglesi, birre comunque con una componente maltata importante come alcune birre belghe. E quindi direi che le tre cose in ordine ovviamente decrescente di intensità sono sicuramente affumicato al primo posto, ed è la cosa che si sente subito. Poi sì, si può sentire un pochino di tostato o torrefatto, comunque simil caffè e forse anche un pochino di caramello, però sicuramente la cosa più importante è ovviamente per questo stile l'affumicato. E anche in bocca è davvero davvero fantastica questa birra, perché nonostante il corpo molto leggero, carbonazione praticamente assente ed è spilata la spina, ma appunto è spilata da un fusto con sacca da un key keg, quindi non c'è possibilità anche per chi non sapesse tarare l'impianto di andare a sovrassaturare o comunque overcarbonare questa birra. È davvero così come esce dalla sacca, appunto non c'è un contatto diretto tra la CO2 e la birra. E quindi resta perfettamente piatta per una frizzante e il corpo così leggero però nasconde una complessità interessante, perché c'è sicuramente ancora questa parte di affumicato, di speck che si sente, ovviamente dico speck per richiamare un'immagine visiva, non è che stiamo leccando lo speck, anche se a occhi chiusi potremmo pensare quando ci avviciniamo di stare, di annusare uno speck. In realtà c'è questo affumicato molto molto persistente, non è invadente, non è esagerato, ma si fa sentire bene e assieme all'affumicato facendo un pochino di attenzione, a me sembra di andare a sentire anche in bocca qualcosa di ancora caramellato o di frutta o di, mi viene in mente, frutta secca caramellata, quei dolci con appunto la frutta secca e poi è ricoperta di zucchero caramellato. C'è poi, devo dire sì, sul finale una piccola piccola nota lupolata, non saprei ovviamente entrare nel dettaglio, posso immaginare lupoli classici europei da amaro o lupoli erbacei perché non è invadente la nota col lupolo, però si sente un pochino di amaro nella parte finale della bevuta che è molto leggero, sicuramente tra tutti i sensi del gusto, l'amaro non supera mai il dolce, però si sente nella parte finale un leggerissimo amaro che tra l'altro a me fa venire voglia di berne subito un altro sorso e che spiega il fatto che vengano consumate in fretta almeno da sottoscritto queste birre. Le marzen in generale devo dire che sono molto beverine, però insomma anche questa marzen affumicata è ovviamente un bellissimo esempio di raukbeer. Nota evocativa di questa birra, anche se forse la stagione è molto calda, però effettivamente bevendo una raukbeer così a me viene subito voglia magari di accompagnarla a qualche bella salsiccia bavarese, magari con anche qualche formaggio. Questa quindi è la Schlenker, la Marzen Raukbeer Skoll. Grazie a tutti.